ciao ragazzi è un'estate molto molto calda come dice il gioco pool party e tutti vogliono andare a tuffarsi a bomba ovviamente ma la piscina non può contenere tutti e allora giro di scatola e vediamo cosa c'è all'interno della confezione e come al solito partiamo dalle istruzioni che vediamo molto velocemente il gioco è semplicissimo facile da imparare e adattissimo a tuttissima la famiglia l'obiettivo è quello di mandare i tuffatori in piscina la piscina sta su questa base ma è molleggiata la molla si mette si toglie molto facilmente ed è questa scodella che quindi va proprio a spostarsi non è così facile tuffarsi e io devo riuscire a mandare tre tuffatori o quattro se si gioca in sfida di coppia dentro la piscina e i tuffatori sono veramente simpatici ci sono personaggi e animali di ogni genere abbiamo nove tuffatori per ogni giocatore possiamo giocare al massimo fino a quattro giocatori sono carte plastificate le pieghiamo per bene ci mettiamo il dito sopra torniamo leggermente indietro col dito e loro zack saltano con il tempo si si impara l'abilità fondamentale di mandare un tuffatore dentro la piscina ma questa cosa che sto facendo adesso da solo la fanno tutti i giocatori in contemporanea e quando i tuffatori escono dalla piscina perché non stanno più causa anche indulazioni e così c'è rimasto sopra allora scendono dalla piscina e perdo un mio tuffatore e arrivare a quattro se sono in sfida di coppia o tre tuffatori non è così semplice perché a un certo punto tutti possono sparire dalla piscina andiamo alla sfida in piscina sì siccome questo gioco è tutto di plastica abbiamo ben pensato di sfidarci in piscina tra l'altro si chiama pool party esatto dovevamo farlo in piscina con l'effetto viscito che poi acquisterà con un po d'acqua la piscina sarà ancora più divertente che poi lo potete utilizzare anche per ci siamo divisi nove tuffatori a testa io ho scelto quelli verdi io quelli rossi guarda con che grazia è proprio carino guarda il gattino che non c'è proprio voglia sei prontale il primo che riuscirà a mettere quattro notatori lì dentro vincerà la sfida uno due tre via attenzione vai bravo grande tiro secondo no si è ostacolato col primo no niente da fare ti sto lanciando a te questo è un salto mega galattico non ce la faremo mai a metterne quattro forza vai con la signora si no si autorespinta con quella che c'era dei due ti ho colpito vai mi hai colpito c'è uno sotto l'ascella vai tre vai ma no ma sì 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 ma io neanche uno ancora dai forza ragazzi sto sbagliando qualcosa no 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 mi hai buttato fuori uno Ale ma non si fa quanto ne ho dentro adesso due soltanto avevo fatti fuori due Ale forza sei a due sei caduta sei rientrata sei caduta vai tre niente da fare vai no tre magari bisogna piegarli tanto non capisco più niente potrei lanciare i tuoi tuffatori no questo è stato lontanissimo il gatto vai col gatto tre col dito stavi per mandarmelo dentro sto dicendo tre ma non ne sto mettendo nessuno vai tre tre aspetta che ti butto fuori no non buttarmi fuori dai non buttare fuori ragazzi mi sono auto buttata fuori no il gatto il gatto no vai gatto non dire gatto no il gatto non funziona non sta colata ragazzi no no Ale ci hai buttato fuori tutti non è possibile a buttare fuori te comunque ma no cosa è successo no il gatto non funziona gatto balzo mi sa che i miei sono tutti fuori dalla piscina vai no ma dalla piscina vera sto giocando solo con uno no mi è rimasto solo il gatto che però non salta niente ragazzi vado a caccia vado a caccia come sono andate di qua i tuoi ragazzi vanno a fondo anche più colpita scusi abbiamo recuperato ragazzi sei pronta vai 1 2 3 via vai sì il primo quello buono siamo due pari due pari in piscina no il gatto non salta ragazzi il gatto non vuole andare in acqua vai 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 no niente da fare no per un soffio vai il fenicottero e questo niente da fare facciamo due contro due dai signore poi no ma l'hai buttata giù da sola è vero sì siamo ancora due pari però l'ho rimesso dentro pensavo avessi buttato giù uno dei miei no niente da fare ero partito i miei decollano praticamente no non ce la fanno il signore col fenicottero dai signore col fenicottero dai signore non ce la fanno mi ne hai stoppata una ragazzi allora il trucco è andarne il signore tu hai gatto io il signore col fenicottero non funziona vai ma si può girare un po intorno beh volendo sì secondo me insomma perché no che poi le ca... sì sono tre sono tre ragazzi emozione me ne basta uno vai 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 no 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 alle attenzione ragazzi stanno per cadere no 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 perché l'hai fatto non ce la faremo mai no sei a tre Ale però non è un piccolo facciamo una pausa facciamo una pausa a recupero perché le carte ragazzi vanno proprio a fondo faccio notare ragazzi quanto hai in bilco è lì che penso tutti dicono nooo perché e rischiano di cadere uno due tre via no sono scontrati in volo faccio notare che sei a tre Ale guarda che stanno per cadere guarda no la tattica è entrato si è uscito no sto cercando un po di sabotati Ma non funziona Ale le hai fatti cadere tutti Ed è rimasto su solamente uno tuo Quindi continuiamo via No è partito C'è già due No ragazzi No perché prendo il gatto Notate che quando vado piano No ma ha perso la mano Ha messo che ce l'avessi mai avuta Vado con la signora con un brello Ha messo uno e tolto un altro Via prendiamo questo No sei già tre Guarda il signore con la spazzola Mi ne hai inclobato uno Devo profittare che tu non ci sei No non ci sono Non si ribalta Vai No 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 Guarda che bene comodo che è Vai tata ruga Vai sì non mi sto dentro Una così disturbato Vai Ok Ale sei sempre a tre Come fai a non metterla No Sì No è uscita È uscita Sì Ci vuole la ridenza in tale Perché non si fa così Guarda credo che eliminerò il gatto Perché No Salta Uno Due Tre Via No il primo lancio era quello buono Ma non va No niente da fare Ho mescolato il mio nuotatore e il tuo Niente Ma quanto fa Stai sul tuo Si sta vicidando il tavolo Fa resistenza Fa resistenza Nessuno l'ha inserito neanche uno La rivendita a prendere una buona piega No Guarda come si va Ho perso dal campo visivo Nel frattempo sento delle carte Ma scusa Dite me lo sposti È impossibile Come hai fatto Andata Scusate che ne recupero Te la do la tua parte Che non so perché sono lì Dai Vai La signora La signora non salta più Vai Finalmente Non ne mettevo uno Tantissimo tempo No Perché asciugarsi un pochino Due Grande Dai No Hai visto che è uscito Faccio dei voli Guarda questa Si No è uscita Anche la mia No è tornata a uscire Guarda che il tuo sa pendendo Dai signora Signora Dai Ah te l'ha buttato fuori Me l'ho tolta da sola Faccio due insieme Ma come due insieme Non si può Scusa mi è venuta a gola Voglio provarci Sì beh sai Vai No Risultato è assicurato Solo uno Non tutti e due Vai Vai no È uscita Non ho più niente Riassumiamo Tu sei a due No io sono due Tu sei a due Io ho uno E tu a uno Pronti Attenti Vai Niente Niente Grande signora No la bambina La bambina Con salvaggine Vai signora Niente da fare Vai No È andata lunga È lunghissima Puoi anche il vento Ragazzi Tre Dai 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 No Ti stavi per buttare giù tutto Ale Non farlo Non farlo Non farlo Aspettami Non fa No ma perché l'hai fatto Guarda che belle che sono No Sì Non mi sono aiutato Vai no È entrato Uscito Scusa devo andare a prendere quello Dopo un po' smettono di saltare No Grazie eh Ti ringrazio molto Li ho fatti uscire tutti Ricominciamo No brava Dopo aver recuperato altri notatori Ricominciamo Siamo uno pari Perché sei venuta addosso a me Dai forza Io confido in tutti Perché Due Hai visto che precisi Però guarda il terzo mio No Tre Ale No No ci sei quasi No Pausa ti Ma ce l'hai lì Aspetta pausa raccogliamo Ma ce l'hai lì Vai Ale Pronta Scusa Non so perché Non so perché Si può partire prima Non va bene Si può partire assieme È pericolositore No E vai Campione di pool party Ragazzi pool party è un gioco divertente Nonostante la mia grande performance Ma vi dirò È così normalmente Io e l'acqua siamo un po' così Mentre l'acqua sono un po' così Tu sei un po' come il gatto diciamo È vero Sì È un gioco comunque divertente Perché oltre che farlo dentro l'acqua Potete farlo anche fuori dall'acqua E se questo video vi è piaciuto Mettete un pollicione Iscrivetevi al canale YouTube GPR Per non perdervi i prossimi video Ciao Ciao